ok ragazzi siamo oggi in compagnia di un altro autorevole Morpurghiano eh come vedete si rivelano sempre incredibilmente disponibili eh alle nostre interviste a divulgare una buona astrologia e oggi abbiamo Massimiliano Malaguti che io ho conosciuto oggi ammetto che non è un'amicizia progressa ma ci siamo conosciuti poco fa ma avevo avuto modo di conoscere il suo saggio su astrologia e fiabbe che ho trovato come gli dicevo intenso poetico eh veramente un bel lavoro uno di quelli che merita di essere divulgato riconosciuto e conosciuto lui eh non è tanto avvezzo alla modernità quello che ho capito eh gli piace starse nel suo eremo a studiare io lo capisco da luna in cancro però diciamo che dobbiamo anche passare la fiaccola Massimiliano è giusto? Sì sì assolutamente ok ci vuoi raccontare come hai iniziato eh diciamo ad interessarti di astrologia? Allora io adesso tra pochi giorni sono 53 sto precedendo il mio percorso di vita ma questo percorso di vita è sempre stato accompagnato dall'astrologia possiamo dire interesse veramente adolescenziale quando ero un ragazzino giovanissimo e in maniera assolutamente autonoma ho iniziato veramente a incuriosirmi quasi subito di questa cosa che proprio mi intrigava moltissimo quindi a leggere articoli e poi subito a iniziare a comprare libri a proprio informarmi a capire bene di cosa si trattasse le riviste che c'erano all'epoca perché soltanto dobbiamo anche un po' ricostruire noi che siamo un po' più grandini eh questa epoca diversa che abbiamo vissuto anche rispetto all'astrologia rispetto adesso che c'è la tecnologia ragazzi ovviamente oggi è un approccio diverso vai su internet di io credo che il primo approccio spesso sia quello digiti leggi e fai era più difficile allora però era anche un po' affascinante questa cosa perché eri lì nel tuo mondo insomma a me è anche piaciuto arrivarci così e poi queste curiosità iniziavo così alle simbologie dei pianeti segni ad approfondire tutto quanto poi l'incontro con i libri dell'amor purgo con l'isa morpurgo è stato veramente una folgorazione il caso stranissimo allora ero sotto i flussi negativi di nettuno ma come al solito gli aspetti negativi transi negativi possono anche essere stimolanti che era proprio opposto la luna a mercurio e il primo libro è stato quello sulle case addirittura stranamente quindi il primo libro che ho letto di islamo con le case subito mi ha colpito il suo modo di scrivere il suo modo di fare la storia proprio è stato un colpo secco fortissimo un innamoramento proprio a prima a prima lettura la sua maniera di scrivere straordinaria lei aveva veramente questa capacità di esprimersi un italiano fluente però molto ricco e tutto quello che diceva dell'astrologia che mi ha praticamente sconvolto posso dire perché a quelle descrizioni così approfondite delle case ricordo benissimo ancora oggi la casa quarta no che la casa legata al cancro io sono cancro forse per quello venere in quarta io ero quasi commosso cioè come ha descritto la casa mia veramente così e quindi da lì tutti gli altri libri quelli che erano disponibili introduzione astrogi altri libri astrologici barbo altri autori a non solo morpurgo e poi le riviste tramite le riviste anche lì lei in quel periodo cominciamo a parlare dell'ottantasette scriveva su sirio faceva la carrellata dei personaggi delle favole e quindi la regina di cuori proprio veramente mi affascinò e nell'estate dell'ottantasette ricordo il primo articolo inizio a rispondere alle lettere su AIDS e Chernobyl quello lì fu e parlava di Ypsilon questo altro pianeta quindi liberamente si è aperto un mondo dopo alcuni anni nel 92 ma quindi parliamo di altri anni studio studio avevo cercato di scriverle non mi aveva risposto non iniziavo anche sperimentare i suoi spigoli diciamo e sono iniziato a fare lezioni con Dania nipoti a Bologna che è una sua allieva quindi per tre anni sono andato da Daniela Daniela mi ha aiutato moltissimo soprattutto a mettere insieme gli elementi analizzare i temi anali che allora era ancora abbastanza in difficoltà sai che abbiamo intervistato anche lei proprio non ti fai mancare nessuno una mia allieva adesso anche collaboratrice Roberta Bertolini che dice che io sono come un cecchino libero veramente è simpatica vabbè poi le bolognesi sono scatenate e lei ha presentato il suo libro quello dello sbobbinamento delle registrazioni lì è vista con me è stata veramente molto carina e gentile e quindi tu diciamo che lì ti sei aperto un mondo e lei è ragazzo giusto e avevo 22 anni quando iniziato da Daniele poi dopo lei mi ha fatto mio questo grande regalo perché l'anno dopo entrai come ospite in una lezione di Isamolpurco quindi vedere questo mosto sacro io ero anche giovanissimo un'emozione un'emozione enorme veramente poi dopo ho partecipato per alcuni anni proprio come allievo diretto nonostante questa grossa differenza ovviamente che si sentiva e quindi lo ritengo comunque un privilegio e assistere direttamente alle sue lezioni proprio a Milano anche a casa sua è stata un'esperienza importante sicuramente storia lunga non voglio però sono tante le fasi effettivamente interessante però diciamo dopo ho continuato così da studioso un po nell'ombra effettivamente facendo sempre tanti temi natali e arriviamo oggi insomma facciamola un po corta con questo momento che sento proprio ma è segnato da transiti astrologici dopo magari ne parliamo dove come dicevo prima lo ripeto ma veramente ho questa sensazione che due mani mi stiano spingendo proprio nella schiena adesso tu vai avanti quindi insomma in parole povere Plutone è entrato in casa decima e non posso più nascondermi cioè il pianeta del nascosto è entrato nella casa di riflettore cioè dove ti si deve vedere e quindi e lì è cominciata poi un'altra fase chiaramente questa fase con questi interventi al congresso morporghiano con queste ricerche suggerite da questo Nettuno in pesci direi soprattutto da tanti elementi da questo Nettuno in pesci quindi la ricerca sulla Cooler Ross che è un personaggio straordinario andatela a cercare conoscetela perché ha un'anima straordinaria veramente una guida è poco conosciuta in Italia secondo me la ricerca sulle favole su questi autori di favole poi mi sono divertito molto ok senti ti interrompo allora non ti chiedo di illustrarle qui nel senso è ovvio a un lavoro che va letto va conosciuto ma la vogliamo regalare a chi ci ascolta una curiosità fra astrologia e fiabe una chicca la chicca di io direi almeno io personalmente non mi ero mai reso conto di questo guardando i temi degli autori di fiabe e i transiti quindi ho creato i loro capolavori c'è indubbiamente una prevalenza dell'aspetto venere Nettuno venere pianeta anche della narrativa con la sua sede cancro quindi raccontare no e anche i bambini lì con Nettuno la fantasia quindi abbiamo proprio questi temi in cui ci sono già degli aspetti natali ad esempio collodi aveva la congiunzione in capricorno in effetti ma congiunzione venere Nettuno che verrà stimolata poi da un bel trigono proprio di urano e dello stesso Nettuno quando lui decide di scrivere Pinocchio che guarda aveva una storia incredibile che non tutti sanno perché Pinocchio lo sappiamo la favola italiana più conosciuta al mondo un'opera straordinaria lui l'ha scritta perché aveva dei debiti di gioco io non lo sapevo e se non gli aveva forse non la scriveva e poi lui l'aveva interrotta che Pinocchio era stato impiccato da Gatto della Polpe si sono lamentati bravissimi giustamente Fiorentini che leggevano sul giornale e l'ha dovuta finire e l'ha presa diciamo perfetta perché è una favola meravigliosa e poi l'altra riflessione che ho fatto perché è un periodo che sono così ragazzi con questa cosa mi sono successo anche delle cose lui è morto pochi anni dopo di un colpo di un infarto se succedeva prima noi non avevamo Pinocchio ma noi dovevamo avere Pinocchio perché io credo nel destino così e quindi tutte queste cose insomma sono interessanti molto bello senti ma c'è un testo che possiamo acquistare ordinare alla società purtroppo no lo so che arrivavamo lì e questo è per ora sono queste ricerche queste sono pubblicate negli atti del congresso di Morpoghiani quindi questa delle favole era del 22 poi ne ho fatta una quest'anno è ovviamente 23 e 21 per ora li trovate solo lì poi magari un giorno quando avrò scritto un po' di più magari troverò il coraggio di di tirar fuori anche perché in effetti soprattutto questa delle favole io ho fatto comunque quattro autori ma ce n'erano anche altri io ho trovato delle cose identiche ad esempio non ho messo adesso non voglio sparare a Andersen ma anche lui trigono venere netto insomma c'era una insomma credo davvero deve questo sì sì veramente è stato incredibile poi vabbè ci sono un po gli elementi sagittario cancro con i segni che tornano molto ovviamente questi scrittori ed è interessante la miccia cioè anche l'autore di peter pan barry anche lui che aveva lui aveva il quadrato di nascita e scrive peter pan e poi adesso non entro perché non vi voglio smorbare ma la storia è affascinante trovando questi ragazzini non ha figli raccontando lui queste fiabe a questi bambini quando nettuno va a sciogliere la quadratura cioè quando nettuno si congiunge a venere quindi è veramente interessante ma questa è proprio la teoria morfoghiana no che due pianeti in cattivo aspetto nel tema natale quando si congiungono sciolgono la quadratura la lesione quindi di i pianeti comunque lesi siccome ne ho tanti consoliamoci un po e ti creano sicuramente tanti problemi però creano veramente spesso delle energie incredibili con tante fatiche e sofferenze non vanno davvero subito associate alla sfortuna sì ma farai più fatica avrai delle difficoltà ma ma raggiungi comunque delle vette o anche perché ecco magari come tu dici no se collodi non avesse avuto i debiti non ci sarebbe più esatto esatto le difficoltà portano sempre poi a trovare soluzioni e magari sono soluzioni geniali eh sì eh va bene così eh sai cosa pensavo mentre parlavi del ruolo anche del segno del sagittario nelle fiabbe alla personificazione degli animali che in genere è una dote tipicamente sagittariana per esempio a Steven Spielberg a questo me lo scrivo eh perché qui voglio approfondire sta cosa che fa che le persone le persone con forti valori sagittario tendono a personificare animali al limite anche di fantasia e l'ho trovato molto forte ovviamente in Steven Spielberg che da IT ad avatar ha creato questa serie di figure no immaginare e fortissimo in Walt Disney che ha eh creato no Topolini e Paperopoli eh con tutti questi che sono proprio archetipi no lo zio tirchio il giovanotto scansa fatiche eh la signorina tutta curva eccetera eccetera eh e sono personificati ma benissimo che dopo un po' no ti assolutamente ma anche eh Biancaneve Cenerentola e tutti gli uccellini mappagallini cerbiatti no che la consolano che l'aiutano nelle faccende domestiche e io ho notato che quando c'è questo filone c'è sempre una forte componente delle quattro zoccoli sagittariani e d'altronde qua però me la servi su un piatto d'argento ti devo dire una cosa morpurghiana cioè sagittario per la teoria morpurghiana esaltazione bide la luna infanzia cioè è un segno che certo a Nettuno tutto quello che vuoi ma c'è questa sensibilità che i sagittari hanno eh che i sagittari hanno certo una sensibilità diversa da quella cancro la sensibilità dinamica la sensibilità ottimista insomma loro hanno delle caratteristiche diverse però molto vicina alla natura perché poi in sagittario c'è X quindi dice una cosa interessantissima che io non avevo vedi guarda è verissimo è verissimo è verissimo mi fa piacere averti dato uno spunto e a questo punto parlando di animali mi viene in mente che dopo la nostra intervista per curiosità mi vado a vedere il tema natale di Beatrix Potter che tra eh paperelle coniglietti ha creato delle favole per bambini meravigliose sono tra le mie preferite tra l'altro e poi anche il personaggio a mio avviso merita eh un'analisi un'indagine anche per il tempo in cui ha scritto mi piace molto la sua figura ecco quindi questo senz'altro io sono sempre interessato anche se alla che alla miccia che fa scattare la 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 grande scrittura sono secondo me ancora abbiamo capito il giusto anche astrologicamente e quindi è una infatti anche in passato ho fatto analisi su alcuni scrittori come Edgar Allan Poe andiamo in un altro settore però quello che fa scattare la grande narrativa è è affascinante e restante sicuramente parte anche spesso da famose ferite personali sicuramente è vero nel caso di barri Peter Pan aveva avuto la morte del fratello insomma cioè non ci sono delle cose Peter Pan non cresce perché è andato di là è morto cioè certo chi è che non crei qual è il ragazzino sì il ragazzino maturo non cresce però insomma quindi sono tutti cose davvero che sarebbero da approfondire ancora meglio e e secondo me è una grandissima dimostrazione a chi ancora non ci crede che del potere dell'astrologia cioè fare queste ricerche all'interno finalmente dell'astrologia ricerche sì che sicuramente simili magari vengono anche fatte a livello di critica letteraria così iniziamo a farlo perché secondo me i tempi sono anche maturi sarebbe proprio bello giusto assolutamente io c'è un po ci provo però è faticoso poi devi avere alle volte quella quell'intuizione perché quella fiamma quella quella parola sussurata anche da da qualcuno di invisibile perché ecco io penso anche così proprio assolutamente sono sono d'accordo è una ricerca molto bella molto interessante e poi magari ecco se se ti va eh essendo una sai eh vengo da quella che eh si chiamava una volta la laurea in lettere mo l'hanno spezzettata l'hanno fatta a fettine ma l'amore per la letteratura c'è sempre quindi se poi mi viene qualche illuminazione eh mi permetterò di scriverti da questo punto di vista volentieri mi sono molto concentrata nell'analisi diciamo così fra letteratura ed astrologia su eh la rolling del mondo magico di Harry Potter e Tolkien anche perché sono una grande amante del fantasy quindi diciamo che lì ho trovato un po' un mio eh filone la rolling che non ho messo alla fine perché era un po' così pensa un'altra chicca alla venere in vergine leone con venere in vergine quando ha inventato Harry Potter intanto l'ha inventata su un treno e nel periodo in cui Nettuno era in Capricorno treni nessuno al trigono di venere anche lei poi dopo guarda è incredibile perché sai è vero che dopo ci ha scritto per tanti anni e lei ha avuto la capacità di farlo però quella scintilla anche rispetto ai transiti è importante interessante ti dico una cosa che probabilmente non sai se mi permetto sulla rolling allora è noto che lei eh fosse e ancora penso una brava astrologa spesso ha sbarcato il lunaio facendo oroscopi quando aveva insomma delle difficoltà che adesso sicuramente non ha più certo e eh lei da quindi appassionata indica la data di nascita di tutti i personaggi che hanno un certo rilievo nella storia e li ha disegnati diciamo nella sua mente anche molto corrispondenti alle caratteristiche del loro segno per cui è del leone eh che è coraggioso generoso leale eh ermione della vergine perché la saputella precisa in ordinata e così via ma la cosa più interessante ancora è che mettendo lei la data di nascita e quindi ovviamente nel corso dei libri noi ci rendiamo conto degli anni no in cui si e gli i protagonisti stanno vivendo le loro avventure se tu proietti i transiti sul tema natale di harry potter o di ermione i da i fatti che gli accadono corrispondono ai loro transiti no direttore aspetta lo ha fatto un lavoro che solo un astrologo poteva intuire io ho detto ma ti pare che una che fa l'astrologa si è limitata no ma fammi vedere è stata andata a lavorarci un po' ed effettivamente eh per esempio sul tema natale di harry quando gli muore lo zio ci sono dei transiti in ottava casa molto brutti cioè c'è una rispondenza come se proprio lei avessi letto il tema natale di suoi personaggi e chissà magari è stata anche ispirata eh dai transiti stessi nell'ideare magari degli eventi e degli intercci questo non lo sapremo probabilmente mai a meno che non accetti di farsi intervistare da me cosa che vedo piuttosto peregrina non per la disponibilità ma perché probabilmente mi chiedebbe cifre che io non ho assolutamente a disposizione allora senti ma visto che parliamo di letteratura e di scrittura togliendo la grande Elisa un libro di astrologia che tu suggeriresti a chi magari è appassionato si sta avvicinando a questa materia vuole capire se è una cosa che lo appassiona un libro del cuore un libro no di astrologia no perché sono un po' fondamentalista e quindi i libri proprio che ritengo fondamentali sono quelli dell'amor purgo ma non fondamentali magari anche solo un divertente sai che adesso mi cogli adesso senti ma faccio una cosa questo qui della Daniela coi ricordi della Elisa è bello però non mi ricordo il titolo è bello perché sono proprio i suoi ricordi le conversazioni ma torniamo su Lisa Morpurgo un libro di astrologia senza Lisa Morpurgo non a me mi vedi ecco le cose che mi cogli impreparato nel senso che ne ho letti li trovo anche interessanti sai cosa forse la butto proprio lì mezzo disperato e anzi ti colgo anche qui rischio anche sempre le penne perché sai che vabbè lasciamo è uno dei libri un pochino più sintetico è quello sui transiti dobbiamo ammetterlo e allora lì mi ricordo Robert and transiti è un libro interessante non è morpurghiano è un bel tomo ma inevitabile però è fatto bene strutturato bene ho trovato lì alle volte delle interpretazioni un pochino più morbide anche rispetto all'amor purgo insomma la conosciamo molto interessanti sui transiti anche perché secondo me è ancora un po il capitolo che almeno a conoscenza mio manca ancora forse un testo è difficile è difficile perché è un tema talmente ampio che credo che tutti abbiano proprio timore a mettersi lì cinque anni a scrivere cioè bisognerebbe trovare una una via però perché è veramente comunque una materia estremamente interessante ed è la prova del nove dell'astrologo assolutamente su questo guarda io lo sai vengo dalla scuola di discepolo per me i transiti eh pianeti e case sono fondamentali perché eh l'astrologia deve fare previsioni eh non vaticini ma previsioni eh sull'andamento della vita delle persone quindi su questo con me sfondi una porta aperta trovo il libro di Lisa interessantissimo ti dirò che apprezzo tanto il lavoro che ha fatto nella distensione delle varie veneri eh ti piace eh io invece lì sono un po ecco guarda ma perché c'ho la brutta venere quindi no ma ti spiego il perché solo chi ha fatto tanti consulti sa che alla fine la questione di cuore a questo si è sempre la domanda la molla per interrogare le stelle e quindi ovviamente è venere nelle risposte gioco al ruolo fondamentale quindi per dare uno strumento io penso agli astrologi nel soddisfare le richieste di lei ci ha tenuto a fare questa specifica in modo che si potesse scendere molto in profondità nelle varie situazioni per poter leggere la carta sarebbe stato interessante secondo me metterci anche sole luna e Marte cioè il principio maschile e femminile sia dal punto di vista diciamo più psicologico che erotico secondo me il disavrebbe stato forse un testo a parte a questo punto direi guarda eh focalizzato su questo però avresti gradito un testo specifico ancora più approfondito sull'amore esatto una delle richieste fondamentali dei consultanti e delle consultanti soprattutto assolutamente sì ma diciamo la verità allora ci sono astrologi maschi che sono eccezionali però il grande pubblico appassionati poi alla fine è femminile gli uomini a volte sono un filo più raziocinanti diciamo no per cui su queste cose hanno sempre quella eh come dire forma di leggero sospetto invece le donne aderiscono all'invisibile con uno slancio maggiore e quindi secondo me lei ha proprio voluto aiutare in questo e direbbe stato bello se avessi potuto terminare insomma eh con un testo appunto illuminario e Marte e Venere così avevamo un po' un piccolo va de mecum per la casalinga disperata diciamo via scherzosamente dicendo a tutte coloro che mi ascoltano chiaramente anch'io ho consultato gli astrologi nella mia vita perché poi non è che da sola posso essere molto obiettiva quindi anch'io per le mie pene di cuore mi sono rivolta a qualche collega state tranquilli allora senti un'ultimissima cosa ehm ho capito che sei un po' schivo dalla ribalta eh però se ti facesse piacere eh nell'anno che viene tenere un seminario magari proprio sulle fiabbe o su qualunque altra cosa che ti potesse interessare che reputi giusto per passare un po' la fiaccola e le giovani generazioni ne saremmo tutti deliziati veramente sarebbe un argomento sarebbe bello approfondire questa questo aspetto delle fiabe perché comunque anche la ricerca che ho fatto per quanto era già fosse già ampia ha lasciato spazio anche ad altre insomma a una all'analisi di altre altre fiabe sì volentieri mi piacerebbe molto mi farebbe molto piacere allora ci concludiamo con questo appuntamento ma bene sentiamo e ti dico guarda le le allievi della mia accademia se tu gli dici eh ma facciamo una ricerca è capace che poi ti scrivono in centomila con eh studi ricerche sono molto molto dinamici ed attivi e eh colgo l'occasione guarda non lo faccio spesso ma voglio ringraziare non solo tutti voi che vi prestate a questa mezz'ora ma anche tutti coloro che ci seguono allievi miei o non perché poi scrivono commentano chiedono siamo in grado di dimostrare che siamo tanti ti ricordi lo dicevamo proprio all'inizio della nostra chiacchieratina e e noi che siamo un po' più anzianotti tra l'altro ho scoperto che sei del mio stesso anno perché se fai cinquantatré anni fa e poi li faccio alla fine di agosto ti dico settanta anni settanta ti ti dico siamo noi che dobbiamo passare un po' la fiaccola no aiutare anche le giovani generazioni a a capire come muoversi cosa leggere dove andare quindi sarò felicissima di ospitarci ti iscrivo presto ti ringrazio 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 tutti coloro che ci ascoltano ti mando un bacione massimiliano grazie mille davvero grazie a tutti ok ciao 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 arrivederci